È incredibile che due giorni fa è uscito un decreto che prevede tra l'altro 200 milioni di euro a fronte di interventi urgenti da farsi nelle zone rosse. È incredibile che nessuno dei parlamentari della sinistra, che sono ben attivi nella nostra provincia, si sia accorto che la provincia di Pesaro Urbino non era all'interno della lista delle province. E quindi noi immediatamente stamattina abbiamo deciso di fare una richiesta immediata in maniera tale da poter rimettere dentro anche la provincia di Pesaro e dare alla provincia di Pesaro la possibilità di acquisire questi fondi, che sono fondi a fondo perduto per l'aiuto delle zone che sono state dichiarate rosse. Ricordo che la provincia di Pesaro è stata dichiarata rossa l'8 marzo di quest'anno ed è completato il 13 di aprile il momento della zona rossa. Quindi è passato più di un mese e secondo il decreto abbiamo diritto anche noi di avere parte di questi 200 milioni. La nostra regione anche in questo caso è stata dimenticata dal governo centrale nonostante abbiamo rappresentanti importanti dello stesso partito, sia dei 5 Stelle che del PD in rappresentanza di questo territorio. Ebbene abbiamo chiesto come Lega al Ceriscioli di spiegare perché la nostra regione, la nostra provincia in particolare, che è quella che più di tutte ha patito gli effetti del coronavirus, sia una delle poche dimenticata dal decreto rilancio che metteva a disposizione 200 milioni di euro per le province dichiarate zona rossa. La nostra provincia, Pesaro Urbino, è già stata dichiarata zona rossa l'8 marzo scorso e nonostante questo ci sono stati esclusi questi contributi. Credo che sia questo il vero segnale del rispetto che hanno per questo territorio da parte del governo e in generale da parte del centro-sinistra.